E così arriviamo a queste tre A. Con Cristiano Corsini parliamo soprattutto della prima, antidemocratico, e lui ci spiegherà il perché. Io non sento. Non saremmo qua neanche a parlarne. Però io ho trovato piuttosto antidemocratico sotto alcuni punti di vista l'approccio a questo problema. Sono punti di vista un po' disparati. Allora intanto, secondo me, è sorprendentemente antidemocratico dire la DAD non funziona, la didattica a distanza non funziona. Perché significa addossare alla didattica a distanza tutta la responsabilità della dispersione scolastica oppure dell'iniquità negli apprendimenti. Cioè i problemi di dispersione e iniquità si sono probabilmente acuiti durante questa distanza forzata. Però senza la didattica, o meglio, senza l'insegnamento a distanza, questi problemi sarebbero probabilmente molto più gravi. Per dire che una didattica funziona o per dire che non funziona, noi dobbiamo osservare e descrivere i processi di insegnamento. E non mi pare che questo sia stato fatto. Inoltre non esiste la didattica. Esistono diversissime scelte fatte da migliaia di docenti. Ora questa confusione tra didattica e distanza è antidemocratica. Su questa confusione credo che ritorneranno dopo Valentina e Fabio. Quindi l'ho soltanto anticipata. Però è antidemocratica perché è un meccanismo che riproduce per la distanza il discorso antidemocratico che addossa alla scuola l'intera responsabilità sulle iniquità negli apprendimenti che ha il sistema sociale ed economico. E così facendo noi spostiamo tutta l'attenzione sull'insegnamento e sulla didattica e non mettiamo mai in discussione il sistema sociale ed economico. E questo è un modo molto raffinato, ma manco tanto, per essere antidemocratici. Ma è anche antidemocratico il modo con il quale gran parte dell'informazione, non tutta, ha approcciato il problema. L'opinione pubblica non ha chiesto conto alla politica educativa di un dato di fatto piuttosto eclatante. Noi da dieci mesi sappiamo che per una didattica in presenza durante una pandemia sono necessari testing, tracciamento e spazi adeguati. E' antidemocratico il fatto che dieci mesi dopo queste tre cose non ci sono, ma soprattutto il fatto che l'opinione pubblica non chiede conto di questa assenza e che per mesi ha preferito parlare d'altro. I banchi con le palle, il ridicolo metro di distanza quando ne servivano due, le mascherine che prima non andavano messe al posto, adesso vanno messe al posto, ma comunque poi non puoi obbligare nessuno a metterle. Nessuno ha posto alla ministra, mi pare, domande specifiche su questo ed è un peccato perché la ministra non è Putin, possiamo porre alla ministra queste domande, non ci sono ritorsioni. E poi è antidemocratico parlare di scuole chiuse perché è un modo per ragionare sulla scuola che non dà voce a milioni di studentesse e studenti che a distanza stanno apprendendo con fatica ma stanno apprendendo e a centinaia di migliaia di insegnanti che a distanza con fatica ma stanno provando a insegnare e quindi non sono chiusi. È antidemocratico soprattutto perché non rende conto dell'esistenza, l'hai detto tu prima, del nido, delle scuole di infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado che in gran parte, in gran parte, hanno sempre svolto il loro lavoro in presenza. Dire la scuola è chiusa significa avere quindi una visione molto limitata e elitaria della scuola ed è una visione che diventa apertamente classista quando sentiamo parlare di licei chiusi o di liceali a spasso come se nella scuola secondaria e secondo grado esistessero soltanto i licei e i liceali. Non è così. Poi è antidemocratico anche dal punto di vista più complessivo della gestione. Si è cominciato con l'imporre dall'alto alle scuole un protocollo dettato principalmente da esigenze di risparmio senza aver ascoltato in maniera sistematica i diversi contesti che avevano esigenze diverse piuttosto che investire sugli spazi, sui due metri di distanza che erano raccomandati dagli esperti due metri, non uno si è preferito parlare d'altro all'infanzia è stato eliminato l'obbligo di mascherina perché sennò avremmo dovuto fare a meno di un parcheggio per milioni di famiglie e di genitori che hanno un'età nella quale tendenzialmente lavorano. È antidemocratico perché le scuole non hanno preso parte ai famosi tavoli io li ho chiamati i tavoli balneari e i tavoli natalizi. Ricordo che sono tavoli che sarebbero dovuti partire ad aprile in teoria e invece si è iniziato a predisporli con un documento ministeriale del 26 giugno i tavoli, il 26 giugno e in ogni caso le scuole non hanno avuto in quei tavoli, a quei tavoli il posto che meritavano. Cioè il risultato è stato tragico perché abbiamo imposto alle scuole che sono tutte diverse, delle norme dalla pretesa validità universale in un paese che ha elevato tasso di eterogeneità. E guardate che qui è antidemocratico perché non abbiamo ascoltato. Alle scuole vengono imposte dall'alto e dall'esterno continue modificazioni rispetto alle quali loro dovrebbero continuamente fare e disfare la loro programmazione. domani 50%, dopo domani 25%, poi 75%. Si dà per scontato, e questo è molto antidemocratico, che se Viale Trastevere mette nero su bianco qualcosa immediatamente questo qualcosa verrà eseguito. Non funziona così. Non funziona così perché non ha funzionato così per la didattica per competenze, tanto per dirne una sul piano più educativo, e non funziona così in una lotta contro una pandemia. È stato semplicemente detto che applicando il protocollo sarebbe andato tutto bene, ma il tutto senza alcuna dimostrazione. Non funziona così. In una scuola democratica le persone vanno coinvolte attivamente, anche perché questa comunque non è una guerra, la scuola non è un esercito e la ministra non è da ribanti. Questo è abbastanza evidente, tutte e tre queste, ma sono cose che non ci possiamo fare niente, è andata così. E infine è antidemocratico perché non è stato detto che il protocollo non è mai stato sperimentato né validato e neanche sottoposto a monitoraggio. Non ci sono ispezioni nelle scuole, non ci sono controlli su questo. È antidemocratico perché ci sono state scelte che hanno dissuaso docenti dal far emergere dei problemi. Tra queste pressioni vorrei ricordare la firma di un documento che costringe il singolo docente ad assumersi la responsabilità di aver violato il protocollo in caso di positività, perché il sacro protocollo è infallibile, non può essere messo in discussione. Dunque la colpa è individuale. E poi ci sono state minacce o diciamo più o meno velate in caso di richiesta di personale extra, perché attenzione, noi abbiamo riaperto le scuole con lo stesso organico, negli stessi spazi che hanno occupato, che hanno scusate, ospitato le stesse persone di due anni fa. E poi c'è stata la censura aperta nei confronti di un dirigente che aveva espresso garbatamente riserve sulla gestione ministeriale del rientro a scuola. Censura non da parte della ministra, lo voglio dire, non è stata lei a censurare. E quindi antidemocratico perché è basato su una logica dell'adempimento e sulla dissuasione incentrata sul timore di ripercussione. Però devo dire che a parte queste cose mi pare che vada tutto bene. Sì, possiamo stare tranquilli. Il comitato tecnico-scientifico ha detto di sì, quindi... Possiamo stare tranquilli, perché poi loro, anche questo, cioè non ci hanno mai fornito i dati, però non voglio parlare di dati perché non spetta a me parlare di dati. Però i dati, il cittimiozzo, tu prima hai detto Wild, Wild ci ha messo due mesi per ottenere una risposta. Sì, ha fatto l'occasione, è vero, no? Quindi va bene, mi taccio, mi taccio.